Sembra allontanarsi la possibilità di andare ad elezioni anticipate, l'apertura di Crocetta spinge i partiti verso l'ennesimo rimpasto di giunta. Catania, 4 indagati per bancarotta fraudolenta, sequestro per oltre 3 milioni di euro. L'Università di Palermo premia i talenti e ricorda Norman Zarcone. Buonasera e bentrovati all'edizione di Media News di giovedì 9 luglio. Come avete appena sentito nei titoli, sembra allontanarsi la possibilità di andare ad elezioni anticipate, l'apertura di Crocetta infatti spinge i partiti verso l'ennesimo rimpasto di giunta. Vediamo. L'apertura del Presidente della Regione al dialogo ha convinto buona parte dei deputati e l'Arsa a chiedergli di restare per completare il percorso delle riforme. In attesa dell'Assemblea del PD c'è già chi sta facendo i propri conti e prepara l'ennesimo rimpasto di giunta. Per quanto riguarda la sanità, in pole position ci sono proprio due PD, Pippo Di Giacomo e Baldo Gucciardi. Ma Crocetta avrebbe, secondo alcune voci, intenzione di spostare Vania Contrafatto, sempre esponente del PD in quota Faraone, dall'assessorato all'energia proprio a quello della sanità. Da queste scelte dipenderanno molte altre cose. Crocetta vorrebbe approfittare della situazione per liberarsi di un assessore a lui scomodo. Si tratta di Giovanni Pizzo, tecnico in quota ODC. In area PD si vuole cambiare tutto, però, e se si andrà al rimpasto, gli assessori devono essere politici. Quindi stop a Bruno Caruso, Sebastiano Purpura, Cleo Licalzi e alla stessa Vania Contrafatto. Quindi via il Valzer dei nomi, fra i quali Antonello Cracolice e Pippo Laccoto. Sicuramente nei prossimi giorni le idee saranno più chiare, soprattutto sempre più lontane da elezioni anticipate. Al momento il presidente della regione Crocetta ha deciso di tenere per sé ad interim la delega alla sanità che è stata di Lucia Borsellino. E subito scoppiano le polemiche. Il presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta, ha deciso di tenere per sé la delega che è stata fino ad ora di Lucia Borsellino. Chiaramente non potrà farlo all'infinito, ma per il momento ritiene opportuno prolungare il suo interim. Una scelta dettata dalla decisione di ricorrere alla procedura più volte sperimentata, ovvero aspettare che qualcuno gli chiedesse di restare. Uno di questi è stato il presidente della commissione, Pippo Di Giacomo. Nel segno della continuità, con il grande lavoro di risanamento fatto nel corso degli ultimi anni, ha detto quest'ultimo, appare indispensabile che la delega alla sanità permanga ad interim nelle mani del presidente della regione. Una scelta necessaria che garantisce la prosecuzione dell'azione del governo, almeno fino al raggiungimento degli obiettivi chiave già calendarizzati. Inoltre, appare indispensabile concludere l'iter delle riforme che hanno consentito alla sanità siciliana di rientrare nei parametri ministeriali. Insomma, Di Giacomo, che è pur sempre un deputato del PD, ha fornito al presidente un assist che Crocetta ha afferrato al volo. Non mancano ovviamente le polemiche. Critico il sindacato Cimo, il primo ad aver denunciato il caso di Villa Sofia, che poi è sfociato nella vicenda Tutino. E critici anche i 5 Stelle, che pretendono invece un passo indietro e con effetto immediato, perché, dicono, la presenza del governatore alle guida dell'assessorata alla sanità dopo il clamoroso e scandaloso caso Tutino, è assolutamente inopportuna e indesiderata. Ponte Imera, ancora niente auto e chissà per quanto tempo sulla A19, ma qualcosa, secondo il Movimento 5 Stelle, potrebbe essere già in marcia, cioè la speculazione. Vediamo. Niente auto e chissà per quanto tempo ancora sulla A19, anche se per il Movimento 5 Stelle qualcosa potrebbe già essere in marcia, e cioè la speculazione. Il terreno di circa un ettaro sul quale dovrebbe sorgere la famosa bretella dell'ANAS per riaprire alla circolazione la Palermo-Catania potrebbe costare infatti una piccola fortuna ai cittadini. Secondo i deputati a 5 Stelle, il piano di esproprio, interessi compresi, porta a una valutazione dell'appezzamento da espropriare che eventuali interessi compresi si aggira intorno ai 240.000 euro, 236 per l'esattezza. Una somma spropositata per i terreni di quella zona, il cui valore, nel migliore dei casi, non dovrebbe superare le poche migliaia di euro. Sull'opportunità o meno di realizzare la bretella è intervenuto anche il sindaco di Caltavuturo, Domenico Giannopolo. La nuova strada, infatti, secondo lui potrebbe non servire a nulla se una delle due carreggiate fosse in grado di funzionare. In ogni caso, tra due o tre anni dovrebbe essere dismessa. Sulla vicenda si sono accesi dunque i fari del Movimento 5 Stelle all'Ars, che sulla questione vuole fare piena luce. E per questo scriverà a Cantone il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione. Intanto ieri il ministro dei trasporti, Graziano Del Rio, durante il question time alla Camera, ha fatto il punto sulla frana del viadotto siciliano. Lavoriamo ogni giorno su questa vicenda dolorosa, ha detto. Contiamo di iniziare i lavori ai primi di agosto. Del Rio ha anche ricordato che per limitare i disagi sono stati introdotti esenzioni dal pedaggio e molte merci sono state trasferite al trasporto via mare. Sequestro preventivo per bancarotta fraudolenta dei beni rappartenenti alle società fallite da Rigo, Oxida e 4D Costruzioni SRL, il cui valore di stima supera i 3 milioni di euro. Un sequestro preventivo di oltre 3 milioni di euro è stato eseguito a Catania dalla Guardia di Finanza, che ha fatto scattare i sigilli a beni che sarebbero stati distratti da tre società dichiarate fallite dal Tribunale Tneo. Si tratta della Darigo SRL, Oxidal SRL e 4D Costruzioni SRL, specializzate nella lavorazione industriale del veto e dell'alluminio, che avrebbero accumulato debiti per 6,5 milioni di euro, sede quali nei confronti dell'erario. Le fiamme gialle su delega della Procura hanno avviato delle indagini per scoprire eventuali responsabilità per bancarotta fraudolenta dei rappresentanti legali delle aziende. Secondo gli inquirenti, gli amministratori avrebbero creato delle società di comodo, intestate a prestanome e svuotato le dite indebitate dei beni aziendali e delle commesse. Durante le perquisizioni, i finanziari hanno scoperto macchinari industriali, linee di produzione, materie prime, arredi e automezzi in due società che sarebbero state costituite ad hoc ed intestate ad ex dipendenti. Inoltre, le sedi delle tre aziende in pendenza delle procedure fallimentari sarebbero state trasferite all'estero. Le aziende sottoposte a sequestro continueranno a operare attraverso la gestione di un amministratore giudiziario già nominato dal Tribunale di Catania. Eolico in Sicilia, tre anni fa, era stato uno degli impegni di Crocetta stop alle pale e invece a breve saranno realizzati nuovi impianti. Basta eolico in Sicilia, era questa la promessa del presidente Crocetta, fatta in campagna elettorale e ribadita non appena messo piede a Palazzo d'Orlean nel lontano ottobre del 2012. La regione siciliana aveva provato a bloccare le pale eoliche con una legge che introduceva tutta una serie di vincoli paesaggistici per l'installazione di impianti che producono dal vento. L'idea era quella di consentire l'eolico solo dove già c'era da allora, però sono trascorsi quasi tre anni ma nulla di concreto è stato fatto, anzi la questione ha preso un iter diametralmente opposto. Soltanto negli ultimi sei mesi infatti sono stati autorizzati due nuovi impianti e un terzo lo sarà breve. E ancora altri due per i quali non erano iniziati i lavori in tempo hanno avuto una proroga. Da Cerda in provincia di Palermo ad Adrano nel Catanese, da Mazzarino a Polizzi Generosa sono decine le paleoliche che saranno piazzate nei prossimi mesi in ben cinque parchi. Il Dipartimento Energia continua ad autorizzare impianti perché il quadro normativo amministrativo non è stato ancora modificato. Ciò significa che l'Aggiunta non ha approvato il regolamento e la mappa della Sicilia che dovevano fare da freno a nuovi insediamenti mentre il disegno di legge che doveva dare copertura normativa al blocco di nuove paleoliche è stato esitato dalla Commissione Ambiente lo scorso febbraio ma mai messo all'ordine del giorno di Sala d'Ercole. Tutto ciò segna in sostanza un'inversione di tendenza, l'ennesimo paradosso di Crocetta sembra proprio di sì. Intimidazione al centro commerciale guadagna la scorsa notte a Palermo. Sono state appiccate le fiamme ad alcune pedane d'acqua, pannolini e detersivi che si trovavano all'interno del magazzino. Sono intervenuti i vigili del fuoco nel corso della ricognizione. Insieme ai carabinieri che conducono le indagini è stato accertato che il rogo era doloso. I danni ammontano a circa 4.000 euro. Il centro guadagna.com aveva riaperto i battenti lo scorso 29 giugno e si trova in via a Villa Grazia 77. Il neorettore dell'Università di Palermo Fabrizio Micari è già al lavoro. Dopo il suo insediamento è tempo di progettare le nuove iniziative dell'Ateneo. Vediamo. Professore Micari, da appena una settimana magnifico il rettore ha letto dell'Università di Palermo. Mancano 4 mesi al suo insediamento, ma siamo certi che lei è già al lavoro. Il lavoro è cominciato il 2 sera, naturalmente. Nel senso che è chiaro che questa è una istituzione grande, molto complessa. E quindi naturalmente è chiaro che bisogna incominciare a prepararsi ben presto. Le cose da fare sono davvero tante. Partiamo, come ho detto tante volte, da una ottima configurazione, da una situazione solida e salda. E però questo significa che bisogna davvero cominciare a pensare al futuro e progettare nel modo migliore possibile il futuro di questa Università. Quali sono le priorità? Le priorità sono tante in realtà, perché naturalmente da una parte dobbiamo lavorare sull'offerta formativa. Più volte ho detto che dobbiamo cercare di rendere sempre più l'offerta formativa legata alle esigenze del territorio e dei nostri giovani. Naturalmente dobbiamo lavorare molto sui servizi che noi offriamo agli studenti. Dobbiamo cercare di migliorare le performance della ricerca e quindi da questo punto di vista organizzarci in questo senso. Proprio oggi è uscito il bando della valutazione della qualità della ricerca, della BQR. quindi l'Ateneo è chiamato naturalmente a organizzarsi nel modo migliore possibile per questo appuntamento e poi c'è anche l'aspetto assistenziale che evidentemente merita grande attenzione. È difficile individuare una priorità. L'Università è grande, l'Università è ampia, ha tante diverse aree e tanti diversi aspetti. Vanno curati tutti con la massima attenzione perché sono tutti importanti. L'Università di Palermo premia i talenti e ricorda Norman Zarcone. Ieri a Palazzo Chiaramonte Esteri si è svolta la cerimonia di consegna del titolo di benemerito dell'Ateneo riservato a studiosi italiani e stranieri che abbiano collaborato con l'Università. Il Rettore dell'Università degli Studi di Palermo, Roberto Lagalla, ha presieduto la cerimonia di consegna del titolo di benemerito dell'Ateneo. Sono stati premiati il professore Ignazio Melisenda Gianbertoni, già Rettore dell'Ateneo dall'anno accademico 84-85 all'anno accademico 92-93, e Rino Martinez, cantautore e missionario, quale testimone di impegno umanitario in Africa. Inoltre è stato consegnato il titolo di professore emerito al professore Francesco Di Maria e al professore Salvatore Fodale. Oggi è prevista invece la cerimonia di consegna del titolo di benemerito dell'Ateneo alla memoria. Saranno premiati Norman Zarcone, Aldo Naro, Giuseppe Leina e Francesco Paolo Raimondi. Lo ha deciso il Senato accademico, quale giusto riconoscimento per quanti, operando a vario titolo all'interno dell'Ateneo, hanno contribuito ad arricchire con la loro preziosa azione il patrimonio professionale e umano, offrendo dal volta attraverso la loro scomparsa un messaggio di altruismo e generosità. La manifestazione è prevista dal programma Università, onore al merito, a studiosi italiani e stranieri che hanno collaborato con l'Ateneo di Palermo. Il Comune di Palermo ha presentato appello in commissione tributaria contro il sindaco Leo Luca Orlando sul pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti. La discussione nel merito è avvenuta lo scorso 9 giugno di quest'anno. In primo grado la decisione era stata favorevole al primo cittadino che si era rivolto ai giudici tributari per chiedere l'annullamento di alcune cartelle esattoriali. Se questi tributi saranno definitivamente cancellati lo si saprà nei prossimi giorni. Sono passate ormai diverse settimane da quando il sindaco di Bagheria ha dichiarato la fuoriuscita del Comune dal coinress. Angelo Gargano ha incontrato i dipendenti. Vediamo. Il nostro ruolo è che veniamo a lavorare regolarmente anche che il sindaco ci ha messi da parte avendo giudicato una ditta privata e lui voleva il distacco ma noi non eravamo d'accordo a fare questo distacco perché ora ci arriviamo al distacco. Di fatto però voi venite, non venite, voi prendete la presenza, ma non vi vengono offerti gli strumenti per poter lavorare. Sì, sì, no, non ci danno nulla, non ci danno nulla il sindaco. Quindi non avete nulla, non abbiamo mezzo, non abbiamo scopo, non abbiamo abbandonato. Allora, durante questi mesi però l'ho brutto che il commissario, diciamo, ad acta del Cores, l'equitatore del Cores, ha regolarmente inviato le fatture legate alle vostre prescrizioni al Comune di Bagheria. Che risposta ha dato il Comune? No, il Comune ha rifiutato le fatture inoltre, non ne vuole sapere nulla e non ci vuole pagare. Voglio dire grazie ai miei colleghi perché Bagheria alcune volte ci domanda quando ci vedono in mezzo alla strada, la sera, gli amici, ma come mai ancora non avete fatto la rivoluzione? Noi ad oggi non l'abbiamo fatta e siamo tutti uniti perché siamo rispettosi della legge e siamo sicuri che la legge piano piano arriva e ci darà ragione perché il Cores è stato definito da un tribunale un ente pubblico, noi siamo stati definiti da un tribunale dipendente di un ente pubblico e un dipendente di un ente pubblico non possono essere trattati così. Sarà gioioso e fortemente legato alla tradizione il festino che Cantunera regalerà alla città di Palermo dedicato alla Santuzza da Sara Cappello. Un evento interamente sostenuto e prodotto dall'Associazione Culturale Città dell'Arte che ha dato vita a questa fucina culturale nel cuore del centro storico di Palermo. Si parte domani alle 19 con la scopertura dell'edicola di Santa Rosalia in piazza Monte Santa Rosalia. Un ulteriore omaggio al valore storico architettonico che hanno angoli ancora nascosti e poco conosciuti della città. Con questo è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e come sempre vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale.